Per la finalità del anno, la Ture Burana è una nuova acta di cominciare al novembre. Nel novembre, abbiamo bisogno di avere un hotel che dovrebbero investire in un prodotto che si fa in una canzone di camera per rinnovazione, eccetera. Però nel novembre, abbiamo bisogno di avere la capacità disponibile per avere una contribuzione nel settore del turismo. Ma questa è una presentazione con una donna di un progetto nuovo che abbiamo bisogno di avere un progetto di Santa Baitin. Abbiamo spiegato che il turismo è arrivato al più del 50%. Questa è una situazione di Bonaire? Abbiamo ripetitato il turismo molto alto, ma non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più. Per il secondo me, abbiamo 54% di Sibuac Tor Luna, Sibuac un visitante con Bini, e il visitante con Bini. Per esempio, il lunedì di Juli, il 50% indicano che non si è più di più o 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 di più. Abbiamo visto che il lunedì di Juli è passato, quindi il 46% significa che il turismo è più di più o 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 di più. Quindi, abbiamo bisogno di ripetare il turismo molto alto, che è più alto comparare con la regione o con il lunedì di Juli. Ha anche se questo è in riconosceriamente per esempio il planes di joining, abbiamo bisogno di riconosco con Bonaire e le persone che si sceglie per venire a Bonnero non per 5 anni, non per 10 anni ma più di 5 anni quando si sceglie a Bonnero non è loyale per la isla e per noi è importante costa meno per noi per convenire non per venire a Bonnero per venire a un autore per un hotel per fare e farlo e farlo per la isla e non c'è più mazza presa per noi non conosce la parte della comunità ma anche il concepto di once a visitor, always a friend è valido per sovrappare la natura di Bonnero che si sceglie a stimolare per le persone che si sceglie a Bonnero per mantenere come cliente o come visitante che si vede a nostra isla lo che vi ho mencione è il survey con il tappello che sai? il survey è un progetto continuo ora che si sceglie a un nuovo ottobre, novembre come si sceglie a cruz ma anche per stay over arrivals come si sceglie a migliare e l'experienza di cadun visitante fuori di essa anche noi inverti con un elemento con il governo di quello che si chiamano ebrea storico che è un storico che si sceglie a migliare per noi migliare l'experienza di rispondere l'isla l'offshore experience l'actività l'unico tour l'unico tour con l'unico comparare con altre isle che si sceglie a migliare inoltre che ci sceglie a migliare che ci sceglie a migliare Inoltre, noi stiamo a constatare di migliorare la parte di toaletta, di toaletta in un'area pubblica, di cose che noi stiamo conoscendo la messa con il governo. Noi stiamo conoscendo che noi stiamo conoscendo la messa di più informazioni, ma che stiamo in questa area. Noi stiamo a informare del nostro obiettivo, di ogni visitante. Noi stiamo a realizzare che ogni visitante dentro della nostra isra, la nostra opportunità per la libertà, per un provello economico. Per un visitante che noi stiamo in questa isra, noi stiamo conoscendo la buona. Non solo con la musica nel aeroporto, noi stiamo conoscendo un'e-mail. Ora vi voglio registrare, vi voglio bene, vi voglio bene un'e-mail con la buona. Che ci sono una persona che noi stiamo a stimolare la buona, per informare per noi, per andare in un'area pubblica, 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 per un'experienza, qualcosa di nuovo, per un'area pubblica. E' un'area pubblica per un'area pubblica, per un'area pubblica di un'area pubblica.